Nei mesi scorsi Zero1 ha realizzato una survey che si focalizzava sulle aspettative e le criticità dell'analisi dei big data, la quale hanno risposto più di 100 aziende e oggi siamo qui con il dottor Fabio Todaro, direttore della divisione database and technology di SAP, per analizzare e per focalizzarci su alcuni aspetti di questa survey, in particolare quelli più strettamente legati al ruolo della tecnologia. Quindi io partirei subito con questo grafico che ci mostra come i database tradizionali e le soluzioni di business intelligence siano tra gli strumenti privilegiati nell'analisi dei big data rispetto a apposite appliance che nativamente permettono di analizzare i dati. Allora vorrei chiederle quali sono in realtà i pro e i contro di queste tecnologie, che cosa possono offrire in più eventualmente le appliance? Ma quello che si evince dalla survey è sicuramente una presenza ancora molto importante dei dati di tipo tradizionale, quindi dei dati strutturati che vengono gestiti con tecnologie di natura ancora tradizionale, quindi per gestire i dati transazionali. Un aspetto però molto importante che la survey mette in evidenza è l'aspetto dei dati non strutturati, quindi stiamo parlando quasi di un 50% dei dati totali all'interno di un'azienda. Per gestire dei dati non strutturati, quindi dati che sono per loro natura volatili, è necessaria sicuramente una tecnologia assolutamente innovativa. Quindi a nostro avviso riteniamo come SAP che tecnologie tradizionali, database tradizionali, non possono correttamente indirizzare anche queste esigenze. Da qui appunto la nascita di soluzioni, come diceva lei appunto prima, di appliance e quello che sta facendo SAP è aver prodotto e reso disponibile per i propri clienti una tecnologia assolutamente innovativa. Una tecnologia che entra in quella che noi chiamiamo la real-time data platform perché per poter gestire questi dati non strutturati, come dicevo prima dati volatili, è necessario il loro caricamento, la loro memorizzazione, la loro gestione assolutamente in tempo reale. Con HANA, che è la nostra soluzione innovativa di database in memory, pensiamo che sia l'unico modo per poter gestire correttamente queste informazioni che altrimenti con tecnologie tradizionali non si sarebbe in grado di gestire. Ecco, infatti vediamo che proprio anche nella survey che la terza voce è quella della tecnologia in memory. Quindi, nello specifico, quali sono le opportunità che rispetto all'analisi dei big data la tecnologia in memory può offrire? Ma quello che ha fatto SAP è sviluppare parallelamente a tecnologie tradizionali delle tecnologie innovative. Quindi noi, nella nostra real-time data platform, siamo in grado di coniugare soluzioni di natura transazionale con soluzioni di natura analitica. Questo nella massima trasparenza e continuità in termini anche di implementazione, di investimenti e di conoscenza da parte del cliente. Ma siamo in grado all'interno di questa piattaforma real-time di saper gestire i dati che è necessario gestire appunto in tempo reale attraverso una tecnologia innovativa, cioè quella di avere un database ANA che è un database in memory. Questo perché? Perché per poter essere vicini alle esigenze sia presenti, ma soprattutto future, nuove opportunità di business delle line of business, quindi delle business unit all'interno delle aziende è necessario dotarsi di strumenti che siano in grado di poter gestire queste informazioni quando servono e quindi in tempo reale, nel momento in cui vengono appunto prodotte. Non si parla solamente di gestione del dato, ma di tutta la catena, cioè dalla cattura del dato, dalla memorizzazione del dato, dal caricamento all'interno delle applicazioni, alla movimentazione del dato, tutta questa catena per poter cogliere le opportunità nuove di business che come dicevo prima sono esigenze di natura volatile, si pensi alla geolocalizzazione, c'è date informazioni che sono valide solamente nel momento in cui appunto vengono prodotte. È necessario poterlo fare, tutta questa catena assolutamente in tempo reale. Ecco, ma a questo punto com'è possibile, perché questa è un'altra delle problematiche che sono emerse dalla Sarve, come possiamo inserire queste soluzioni all'interno dei sistemi informativi di modo che non siano l'ennesimo silos tecnologico, quindi come integrare tecnologicamente proprio queste soluzioni? Come ho detto un attimo fa, noi offriamo al cliente non una tecnologia spot, non un ulteriore silos tecnologico, un ulteriore appliance o database specifico, offriamo una piattaforma. Offriamo quella che noi chiamiamo real-time data platform, dove il cliente si trova in maniera quasi trasparente un'integrazione da quello che è il mondo transazionale con quello del mondo analitico. È l'applicazione, o meglio, è la piattaforma stessa che sa capire quali dati e come andare a gestire con tempistiche e con modalità completamente diverse. Quindi riusciamo a integrare il mondo transazionale classico, tipico di SAP, che è oramai nel mondo soprattutto del business, e quindi è molto vicino alla linea of business oramai da diversi anni, e quindi con la sua piattaforma tradizionale, storica, dell'IRP, con esigenze invece innovative, nuove, e quindi poter dare questa integrazione e questo sviluppo nella continuità nativamente e con continuità e diciamo quasi con trasparenza per quanto riguarda la struttura IT e quindi con salvaguardia degli investimenti, delle conoscenze, delle competenze che sono già in casa. Perfetto. Ringraziamo il dottor Todaro.